Arpino, Arpin in dialetto laziale meridionale, è un comune in provincia di Frosinone, i cui abitanti sono detti arpinati e la cui patrona è la Madonna di Loreto. La città di Arpino si sviluppa sul versante sinistro della media valle del fiume Liri, su di un sistema collinare ad un'altitudine di circa 450 metri sul livello del mare. Il centro è dominato dall'acropoli, detta Civitavecchia, posta a 650 metri di altezza ed è uno dei centri più antichi e rilevanti sul piano culturale ed artistico della provincia di Frosinone. Il territorio per lo più votato all'agricoltura, ha infatti numerosi oliveti secolari e tuttora scarsamente urbanizzato, è ricco di boschi. Il toponimo Arpino, ovvero Arpinum, nei tempi classici, si pensa derivi dal fatto che il paese visto dall'alto presenta una forma che ricorderebbe quella di un'arpa. Non si conosce l'esatta data della fondazione di Arpino, anche se i ritrovamenti archeologici ne dimostrano le origini volsche a cui sono connesse le vicende dei rossi del foro, preda romana dopo la battaglia navale a largo di Anzio e di Coriolano. Le tradizioni locali e una serie di iscrizioni ancora visibili fanno risalire la fondazione della città al dio Saturno o ai Pelasgi, analogamente alle altre città del Lazio Meridionale, cinte da possenti mura megalitiche e dette quindi città Saturnie. Tale tradizione di fondazione è anche scolpita in una lapide in lingua latina posta sulla porta medievale d'ingresso da est ad Arpino, detta Porta Napoli. La traduzione italiana suona così. O viandante, stai entrando in Arpino, fondata da Saturno, città dei Volsci, municipio dei Romani, patria di Marco Tullio Cicerone, principe dell'eloquenza e di Caio Mario, sette volte console. L'aquila trionfale, preso il volo da qui all'impero, sottomise a Roma tutto il mondo, riconosci il suo prestigio e vivi in salute. Infatti Gaio Mario ne fu cittadino e il suo nome è ricordato non solo nell'etimologia della località allora arpinate di nascita Casa Mari, Casa Mari I, ma anche nell'etimologia della regione francese della Camargue, Caio Mari Ager, come sostenuto dallo storico francese Louis-Pierre Anquetil nella sua opera Histoire de France. La tradizione orale della città di Arpino sostiene che Mario, dopo aver sconfitto i Germani ad Acque Sextie, Eise en Provence, e nella battaglia dei Campi Raudi, all'apogeo della sua gloria, non dimenticasse la sua patria d'origine e, disponendo della Gallia transalpina come terra di conquista, donasse ad Arpino quei territori, le cui rendite servirono a mantenere i templi e gli edifici pubblici della città. Anche l'avvocato politico e filosofo romano Marco Tullio Cicerone nacque ad Arpino nel 106 a.C. La sua città fu spesso citata nelle sue opere. Un altro personaggio arpinate di spicco è Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, nato proprio ad Arpino il 14 febbraio 1568, pittore italiano dell'epoca barocca, che venne definito dai conservatori dell'urbe pictor unicus rarus et excellence ac primarius et reputatus. Tipico esponente del gusto tardo-manierista, il Cesari fu molto attivo in imprese decorative a Napoli e a Roma, dove si occupò anche di formare giovani pittori poi divenuti celebri, quali Guido Reni e Caravaggio.